Parliamo di una mostra ospitata nella sede dello Spi di Bibiano, ne parliamo con Antonio Coppola, segretario dello Spi di Bibiano, buongiorno. Buongiorno Susanna. Buongiorno a Silvia De Gani che è nostra collega, videomaker ma oggi in qualità di artista che espone proprio nella sede dello Spi. Buongiorno, benvenuta. Allora Coppola sostanzialmente si riparte con le attività culturali. Esatto, si riparte dopo questo fermo che è stato molto molto pesante e soprattutto perché ci siamo trovati con le sedi praticamente vuote perché lavorando solo su appuntamento non era così frequente che ci fosse della gente. Ripartendo adesso con la situazione un po' migliorata abbiamo una frequenza molto buona, poi adesso ci saranno l'inizio col primo del mese dell'uncia dei redditi e quindi i nostri uffici saranno frequentati da tantissima gente. Quindi l'occasione buona per far conoscere le opere di Silvia che è una nostra amica da tempo e amica vostra anche e quindi io sono contento che sia qui con me per illustrare le sue opere. Allora Silvia De Gani, la mostra si intitola Fenditure tra roccia e nuvole. Cosa ci possiamo aspettare da questa tua mostra? Allora questa mostra è realizzata con una serie di scatti, una ventina, scatti fotografici che ho realizzato principalmente tra la collina e il medio appennino. Sono scatti che ho realizzato durante le mie passeggiate, le mie escursioni oppure attraverso qualche giro in bicicletta. La particolarità di questo allestimento è che oltre allo scatto fotografico, quindi alla stampa fotografica, ho voluto realizzare degli acquerelli che proseguono un po' immaginandomi quello che ci può essere esternamente alla foto. Quindi diventa una sorta di cornice alla fotografia realizzata con la tecnica dell'acquerello. Quindi metti insieme, diciamo, la fotografia ma anche l'acquerello e la pittura. La prima volta lo fai oppure no? Sì, allora lo facevo, mi divertiva e mi piaceva molto realizzare acquerelli ma per conto mio. Invece le dimostre fotografiche ne avevo già realizzate in passato e quindi questa è stata l'occasione anche per portare avanti un altro progetto che comunque mi interessa della pittura. La natura principalmente? Sì, la natura e soprattutto attraverso la luce e la roccia, che poi è anche un po' il titolo della mostra perché si parla di roccia e di nuvole e quindi quello che noi scopriamo attraverso squarci che si possono creare tra le nuvole e quindi con un paesaggio in continuo movimento o tra la luce che anche la stessa luce può provocare. Coppola, possiamo spiegare perché il sindacato ha deciso già da tempo di ospitare nelle proprie sedi anche le opere d'arte, anche la cultura? Perché la cultura, prendiamo, tra virgolette, ci illumina la vita e ci apre anche a nuovi orizzonti. Voi siete già venuti all'inaugurazione della prima sede e io feci fare a due giovani ragazzi un murales con l'interpretazione, vista da loro, del quarto stato di Felizia da Volpedo. Io ho cercato di portare soprattutto all'interno non solo i servizi ma anche la cultura, questo l'ho fatto scrivere anche sulla vetrata di ingresso, perché noi abbiamo bisogno di tanta, tanta bellezza e tanta cultura, perché viviamo in un mondo in questo momento che ce ne accorgiamo che è talmente brutto che un po' di luce ci serve. Quindi questa luce attraversa le fenditure, mi verrà più da dire, Silvia De Gani. Quindi Coppola, chi viene per le proprie pratiche nella sede dello Spi di Bibiano, può vedere le opere d'arte. Non può, deve, deve perdere cinque minuti per, tra virgolette, per vedere quello che è esposto. Poi molte opere rimangono anche nei vostri uffici. Si rimangono. Quindi rimane traccia? Rimane traccia, sono tutte registrate, perché dato che non si paga assolutamente niente, è tutto gratuito, comprese le locandine, eccetera, noi chiediamo a chi espone, se vuole, di lasciare un'opera. E quindi è ormai diventato un patrimonio della Camera del Lavoro, perché in questi 12 anni o 13 ne abbiamo parecchie. Io volevo sottolineare anche una cosa. Questa iniziativa è nata soprattutto perché c'erano tanti, nei paesi ci sono tanti artisti che non hanno la possibilità di farsi vedere perché sono degli ameriti sconosciuti. E quindi io sono partito con l'idea di far vedere ai cittadini che all'interno della nostra comunità ci sono persone che hanno una sensibilità. Dopodiché si è allargata e quindi ormai siamo a livello... Quanti anni sono che ospitate mostre? Dal 2014, dal 2014. Silvia De Ghani, in particolare tornando appunto alla mostra che sarà visitabile nella sede dello SPIE della CGL di Bibiano dal 1 al 30 di aprile, questi scatti sono stati fatti quando? Ma sono stati realizzati negli anni, quindi alcuni sono datati i più vecchi diciamo dal 2014 e poi ci sono anche, soprattutto l'ultimo periodo poi anche di pandemia dove ho passeggiato parecchio intorno a casa, quindi nelle zone collinari dove si vedono appunto queste trasformazioni. E c'è sia il bianco e nero ma anche il colore. Sì, 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 sì. Diciamo che nel colore mi interessava molto soprattutto il periodo autunnale e quindi col colore caldo che rappresenta un po' l'autunno nelle giornate di sole mentre invece il bianco e nero mi serviva proprio per accentuare quelle che sono le luci e le ombre. Le luci e le ombre, Coppola diceva prima, sono tanti gli artisti che abbiamo ospitato valorizzate dunque gli artisti locali della nostra... Siamo partiti per valorizzare, come dicevi tu, gli artisti locali però si è aperto ormai vengono anche da fuori provincia perché io ospito tutti e non ho nessuna prerogativa di chiusura il bello e il brutto è talmente soggettivo che uno non si può arrogare il diritto di dire a me è brutto si può solo dire a me non piace, che è diverso a te piace dolce, a me piace salato quindi di ai due chi è che ha ragione quindi dobbiamo solo fermarci, guardare e dal momento in cui uno si ferma a guardare vuol dire che qualcosa l'artista si è potuto fare perché ti ha fatto fermare Quindi dal primo di aprile fermatevi a guardare le opere di Silvia De Gani che possono essere viste negli orari di apertura dei vostri uffici Tutti i giorni, dalle nove del mattino a mezzogiorno e poi escluso il sabato perché il sabato è l'unico giorno che io non sono presente in ufficio e volevo infine chiedere a Silvia De Gani se ha già scelto lo scatto e poi rimarrà nella sede No, non ho ancora deciso Quindi magari anche insieme a chi verrà a vederle si potrà fare questa scelta Sì, insieme a chi verrà a vederle e poi magari anche insieme a lo stesso Antonio Coppola e allo Spice se c'è una preferenza No, io lascio All'artista Io lascio l'artista non posso imporre la mia volontà Vedremo, lo scopriremo Intanto andate appunto si può venire a visitare anche se non si hanno delle pratiche da fare No, assolutamente altrimenti non ci sarebbe questo scopo di tenere aperte Esatto Grazie, grazie mille per essere stati con noi A presto